Vince 2-1 il Tolentino nella difficile partita a casalinga contro la Vigor Senigaglia. In superità numerica, in vantaggio, credevo che avremmo gestito un po' meglio la palla, ma secondo me siamo stati anche bravi nel gestirla, avevamo fatto abbastanza possesso, non siamo stati bravi nella finalizzazione, dovevamo essere un pochettino più cattivi, un po' vicinici. Però io dico che i nostri meriti vanno anche rapportati ai meriti di un Tolentino che secondo me caratterialmente non ha rivali. I contraccambi e complimenti alla Vigor, che si è dimostrata quello che sapevamo, una buona squadra equilibrata in campo e che ci ha messo in difficoltà, però credo che il secondo tempo è stato eccezionale, però anche il primo tempo io dico che abbiamo fatto due o tre situazioni importanti per fare i gol, l'abbiamo mancato e poi è stato questo gol che dispiace di averlo preso, perché avevamo preparato questa situazione che loro facevano e la fanno molto bene. E poi niente, anche in dieci siamo rimessi sotto, credo che oggi i ragazzi sono stati eccezionali per attaccamento, per voglia, per concretezza, per sacrificio per ritornare indietro, perché loro potevano ripartire, quindi abbiamo giocato a tre indietro o dietro per quasi 35 minuti, quindi un applauso forte a tutti e tutta la squadra.